L'ultimo episodio, soltanto ieri, per di più davanti ai cancelli delle scuole materne ed elementari, cosa che ha allarmato più di qualche mamma di Morgano. Quest'auto sospetta è stata segnalata alle autorità competenti e in maniera molto sospetta si è dileguata, per cui un tipico caso di autocontrollo spontaneo, ma comunque presente nel territorio. È stata proprio la mamma di uno dei ragazzini a segnalare quegli strani movimenti. All'arrivo dell'assessore l'auto si è dileguata. Così forte dell'esperienza di controllo di vicinato nel territorio di Morgano, ora anche Quinto offre un'assicurazione a prezzi irrisori per furti, rapine, estorsioni e attivandalici. Ci viene dichiarato che i dati dei furti sono in diminuzione, però la percezione della gente, per chi vive veramente il territorio, è totalmente diversa. La gente ha paura, la gente si sospettisce di qualsiasi cosa e quindi è da capire e da sostenere. Abbiamo sperimentato l'anno scorso, i risultati sono stati ottimi direi, circa 350 adesioni, teniamo conto che molte famiglie erano già coperte autonomamente. 25 euro all'anno, basta chiamare sino al 15 gennaio per chiedere l'adesione. Dare più sicurezza è impossibile, dice il sindaco di Quinto. Abbiamo solo quattro vigili e non ci lasciano spendere i soldi che abbiamo. Se noi pensiamo al nostro anziano che ha l'abitudine di andare a ritirare la sua pensione, la meritata pensione, alla mattina presto e si trova il malintenzionato che gliela porta via, con questa assicurazione riusciamo a dare un ristorno a quello sfortunato.